Ho certe parole, amore, e io dicevo ti amo, e avvertivo che la parola, il sentimento era infinitamente più vasto della persona che lo riceveva. Ti amo, ti amo, ti amo, ma chi? Chi? A lei nella speranza che riesca a contenerla e poi a un'altra, un'altra ancora, ma chi? Chi amiamo veramente quando lo diciamo? Chi? Lei, noi, gli altri, l'amore forse? Un piuttosto, piuttosto un altro, invisibile, misterioso personaggio capace, capace veramente di contenere l'immensità di questa parola. Amo.